Finalmente dopo quasi otto anni e mezzo abbiamo avuto la certezza che questo processo sa da fare e che si farà con un ritmo anche serrato di udienze, quindi è possibile che poi si concluda con una certa celerità. Quindi da parte nostra c'è soddisfazione. Grazie agli sforzi di tutti e compreso i vostri perché siete stati fondamentali sia tecnicamente ma anche affettivamente. Avervi qua tutte le volte che entriamo è veramente di grande supporto. Era il momento che aspettavamo da tanto tempo e quindi noi non avremmo mai gioia ma soddisfazione sì. Sono uno schiaffo le parole della Meloni? Non commentiamo se non che nel nostro paese fortunatamente c'è la separazione dei poteri a differenza di quello che succede nei regimi. Si deve dire qualcosa per incentivare comunque le istituzioni di dovere il ministro Tajani a lavorare su questo? Credo che debbano essere già incentivati da anni e che credo che più che le parole del pubblico ministero non si può dire, certamente valgono più le sue che le nostre.